30 nuovi positivi in provincia di Agrigento, 101 guariti, 5 nuovi ricoveri e 3 persone decedute. Sono i dati contenuti nel bollettino diffuso ieri sera dall'ASPE che fa riferimento alla situazione aggiornata a venerdì 11 dicembre. Situazione che rimane pressoché invariata in molti comuni. A Sciacca gli attuali positivi sono 66, uno in meno rispetto alle precedenti 24 ore. 66 attuali positivi anche a Ribera, uno in più rispetto al precedente report. Il bollettino di ieri sera non riporta per Ribera i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime ore sulla popolazione scolastica in attesa che vengano confermati o meno dai tamponi molecolari. 15 attuali positivi a Sambuca di Sicilia, 14 a Santa Margherita Belice, 2 a Caltabellotta, 3 a Menfi, 3 a Cattolica Eraclea. Fin qui dunque la curva dei contagi nell'Interland e Saccense, ma la situazione migliora anche in tanti altri comuni. Ad Agrigento adesso i positivi sono 72, 8 in meno del precedente bollettino. Il miglioramento più significativo si registra a Campobello di Licata con 17 casi in meno rispetto al giorno precedente per un totale adesso di 96 persone contagiate. Ed ancora, nessun nuovo caso e 10 guariti a Palma di Montechiaro, dove gli attuali positivi sono scesi a 74. Numero dei contagiati che scende anche a Favara, Grotta, Licata e Naro. Stabile la situazione a Canicattì, dove gli attuali positivi sono 186. Nella città dell'Uva Italia, che rimane il centro agrigentino più colpito dal Covid, nelle ultime ore si è reso necessario disporre fino a domani la chiusura del comando della Polizia Municipale per sanificazione dei locali, dopo che sono stati riscontrati durante uno screening volontario alcuni casi di positività e sospetta positività tra il personale della Polizia Locale. Stabile infine la situazione negli ospedali. 36 le persone ricoverate in regime ordinario al San Giovanni di Dio di Agrigento, 6 al Giovanni Paolo II di Sciacca. In terapia intensiva si trovano ricoverati 5 pazienti, 4 ad Agrigento, 1 a Sciacca.